I just want it I just want it Conosciuta da grande pubblico come la broche di Beautiful e lo stilist di letto fatto virgola Giovanni Ciacci Inoltre c'erano già due nomi tabili nomi che si rincorrevano da diverso tempo, Iva Zanicchi e Gustavo Rodriguez, il papà di Belen Chi saranno i concorrenti del programma? Bisognerà certamente aspettare ancora qualche settimana per scoprirlo con certezza Fotocredits Facebook Grazie per la visione! Grazie per la visione!